secondo me un gta si adatta sempre ogni volta che si rinnovano i tempi cioè ci vorrebbe un gta ospedale psichiatrico per ogni epoca per ogni epoca del dota non c'è genere qui dove vai no non c'è un genere nemmeno qui invece si allora ci sta ci sta io ho il kimura pesan dudas liberi liberi rischi di liberi risposte capire almeno chi è legione a che bello che bello mamma mia il 360 a legione col potere che soddisfazione attenzione volete che i palazzi ho trovato un totem lo tolgo aspetta però non c'è ruina non c'è il ruina sei sicuro allora non lo tolgo sì guardia va bene ma lo tolgo l'acqua cosa altro però vincere ho un totem qua fuori allo shock questo che noi c'ha un noed e tutte cose dai to io tu dal peggio ci prendiamo l'uncino a gratis con terreni maledetti aspettiamo di poppare qualche gen facciamo poppare qualche gen potrebbe essere tipo la speranza ti metto sul gen pure io poi c'è un altro totem ho visto due totemi in fila uomo dude what happened dude what happened spaventato dai pallet ouch dude why the opposite direction teniamoci tutti separati che palle questo tre ore qua bravi fate il gen la rasciata io sto a metà gen pure io uno se fa tutto bene io lo volgo alto ragazzi se io facciamo così no non mi conviene a me che sono ferito non conviene farlo a me no volevo togliere il resto totem ma che sei messo? terreni maledetti ragazzi veramente stiamo scherzando mi sembra assurdo mi sembra un po' assurdo con legione ma anche se si riemmessi ci troviamo un uncino siamo già in largo vantaggio ti venga a salvare dude? eh si non sta venendo praticamente nessuno ti ha finito il gen dai dai che ho anche la build per curare io io lo faccio ragazzi io ho fatto un altro gen grande vieni wasteland poverina questa mamma che rush mamma santa togliamogli tutti i totem ragazzi curami fatti curare vai wasteland guarda il mio dito no tutto ne ho trovati due wasteland guarda il mio dito allora in quella struttura lì di mattoni c'è quel totem valla a togliere io faccio questo genna avvio vanno toglielo tu io ho visto due totem da togliere capisci va bene e non dimentichiamoci di fare il geno però ragazzi io ne ho tolto uno ok allo shock io ne sto togliendo un altro ne ho tolgono un 4 chi lo sta portando qua? ok non era terreni maleditti ragazzi era di buona speranza allora tre ne mancano due io ne ho fatto uno in questo momento ok ne mancano due allora io ne ho trovato un altro spento togli io sto su un gen chi è su un gen? Gapard? non penso no io mi sto curando Anna non c'ha cura di sempre penso sei solo tu Anna forse addirittura è in seguita devo scoprirlo ok mi metto subito al lavoro ragazzi ok manca un solo totem adesso ti raggiungo sul gen prizio va bene sto al 35% io mi lascio la cura al 99 così non mi vede giusto? non dovrebbe vederti alzando il coltello dood vabbè io cambio zona ciao ragazzi ti tengo anche l'ultima totem capito ok ho preso ok ok io ho preso un colpo anche prizio niente quel genere non lo possiamo finire dobbiamo aspettare attualmente no lo finisco io lo finisco io sai quale è? si si sto già sopra ok ok comincio un altro gen anzi mi puro prima è poco distante ok ok ah non era quello dude ah ok ottimo ragazzi ottimo adesso però ne abbiamo due vicini un po' di fortuna siamo usciti da questa mappa si ma stai inseguendo Anna buttatevi su quel gen e sto arrivando ma andiamo 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 su quel gen quale dude? gaybard prosegui dritto verso un angolo mappa vedi c'è un'uscita c'è una struttura di mattoni molto bassa vicino alla shak no 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 dalla parte opposta credo io sono sul gen vieni mi quel gen dude vai a un'uscita non ti preoccupare lo finiamo a tutti i costi lo finiamo a tutti i costi siamo già in due l'uscita sta qua dietro eh questa cosa eccolo gaybard apri l'uscita no c'è legione c'è legione via 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 tutto non mi puoi bloccare e non ho capito da in che direzione veniva stavo scappando dall'altra parte sta aprendo e lasciato hai lasciato? eh si me l'ho preso continua ad aprire attenzione sta tornando tutto si apri esco no ok mi fa manca un tocco praticamente porco 2 si però io mi devo curare e voi dovete essere appesi per fare sto giochino poi arriva un borro time che vedete come fa il cancro che non solleva ok mi alza stai recuperando tutto si si come stai messo? viene da voi viene da voi sparato oddio non è proprio un tocco finestra finestra ok sneaky dai vieni sta qua sta qua torna da voi mi alza mi alza salvate gaybard che facciamo adesso? tu scappa spero che ci abbia borro time a me subito con borro time non ha borro time scappa che parto vai wasteland vai falla avvicinare falla avvicinare ok c'ho borro time via 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 addio pezzo di merda non mi puoi bloccare stronza ma che c'hanno i survival che problema c'hanno no vaffanculo daddy was crampy gg well played yuri don't body block Anna fa baby legion eh poverino questo era baby legion fango 9 non mi puoi ho non mi puoi no mi puoi non mi puoi dici il Grazie.